questa recensione è disponibile anche su pink magazine italia trovate il link in descrizione ciao a tutti ragazzi bentornati su starlightbooks e su pink magazine italia sì perché questa recensione non sarà soltanto sul mio canale sul mio blog ma la potete potrete anche trovare sul sito di pink magazine italia di cui vi lascio il link nell'info box che è il magazine italiano per cui ho il piacere di recensire i libri che io reputo diciamo nel canone nel canone pink il libro cui appunto mi cingo a parlarvi oggi è il secondo libro della serie guns at thailand di ma di forse di appunto ricominciare a guns at thailand se in pazzo d'amore avevamo la storia di mac e me di cui abbiamo la storia di joe e jenny che sono rispettivamente il migliore amico e la sorella di mac mi accingo a leggervi la trama per lei è come il suo quinto fratello maggiore ma i sentimenti che prova per lui sono ben lontani dall'essere platonici joe cantrell proprietario della compagnia di traghetti di canset thailand è innamorato di jenny mccarty da quando a memoria jenny invece sin da ragazzina ha frequentato e poi si è fidanzata con il medico tirocinante david lawrence quando le cose tra david e jenny finiscono terribilmente male lei chiama il suo quinto fratello joe una delle persone a lei più vicine che vive sulla terraferma jenny decide di passare qualche giorno con joe è proprio quello di cui ha bisogno prima di tornare sull'isola e affrontare la sua famiglia e suoi genitori per dire loro della fine del suo fidanzamento per joe era già abbastanza duro amare jenny in segreto ma averla in casa con sé è una vera tortura approfitterà della situazione per mostrarle quello che potrebbero avere insieme e cosa avrà da dire riguardo mac il miglior amico di joe nonché protettivo fratello maggiore di jenny qui la trama è molto sintetica questo qui questo genere di romanzi appunto vi dico subito che la serie canset thailand è davvero infinita ma sono tutti romanzi autoconclusivi quindi non state a strapparvi capelli potete leggerli quando volete nell'ordine che preferite perché comunque si capisce diciamo le cose si capiscono lo stesso se nel primo libro appunto avevamo mac e maddie avevamo una storia molto intensa e profonda anche qui la mariforce ci regala un romance puro semplice e veramente romanticissimo da cosa si capisce appunto che è un romance pure semplice per diciamo la rapidità degli eventi un po come quei film che fanno d'estate quelli che fanno anche su netflix o quelli super romantici ecco più o meno l'atmosfera ricorda quella anche più o meno lo stile perché comunque gli eventi capitano molto rapidamente perché comunque in questo genere di storia non è che la si può tirare troppo per le lunghe se no ci si rompe anche un po le scatole che appunto la poi diciamo che il sentimento che è narrato qui quello tra Joe e Jenny era già diciamo latente ancora prima che noi li conoscessimo Joe e Jenny appunto si conoscono da quando erano bambini lei lo considera come un fratello lui invece è sempre stato innamorato di lei e questo è un classico è un classico che c'è lui che è innamorato della migliore amica della sorella del suo migliore amico scusate oggi mi incarto non so cosa mi prende credo di non avere ancora connesso tutti bene i neuroni è un classico diciamo è un classico del romance ma ci sta sempre bene a me piace sempre perché comunque qui diciamo che abbiamo Jenny che dopo aver scoperto che il suo fidanzato David è un bastardo traditore chiama proprio lui perché non se la sente di chiamare il fratello e tutto il resto la prima persona che gli viene in mente di chiamare lui chissà come mai non tanto perché appunto sapeva che suo fratello avrebbe fatto una strage ma tanto perché sapeva che su Joe può sempre contare già qua ti fa capire che comunque il sentimento latente c'è puoi raccontarti tutte le balle che vuoi Jenny ma chiaramente chiamato lui per primo perché sai nel profondo del tuo cuore che è l'unico che avresti voluto vicino in un momento così delicato ecco David e Jenny erano comunque già apparsi anche Joe erano comunque già apparsi in pazzo d'amore e anche lì nella comparsata che aveva fatto David avevo già capito che era un po' uno stronzo perché già di per sé un uomo che ti convince a non continuare gli studi per tenerti sull'isola e farsi quel cazzo che si fa quel cavolo che gli pare scusate la volgarità quel cavolo che gli pare a Boston già di per sé mi fa capire che è uno stronzo poi dopo vabbè l'amore cieco stavano insieme comunque da 13 anni eh io come abbia risieduto questo tempo senza capire che ero un po' un cretino io ancora non lo so vabbè si sa che l'amore è bello così perché a volte si chiudono gli occhi e si chiudono proprio perché veramente vabbè comunque a parte questo David in fondo diciamo che non è un personaggio nettamente negativo cioè sì lo detesti perché comunque un traditore il tradimento è penso la colpa peggiore di cui si può macchiare qualcuno in tutti i sensi non soltanto nelle coppie proprio il tradimento in generale è una dopo l'omicidio penso che sia una delle cose peggiori perpetrabili dall'essere umano però comunque non è un personaggio negativo perché comunque l'autrice non te lo fa odiare ma te lo fa anche un po' empatizzare eh riesce a mischiare appunto empatia e disgusto e non è cosa da poco eh Jenny appunto si sente confusa si sente spaisata e trova in Gio la sua ancora di salvezza Gio veramente a un certo punto mi ha fatto un po' pena perché veramente è perso per questa ragazza lui è straconvinto di quello che prova e cede appunto alle lusinghe di questa ragazza tanto l'amore che prova per lei sentendosi poi anche in colpa e convinto di essersi approfittato però una cosa che mi è piaciuta di Jenny appunto è che si assume completamente le sue responsabilità sa perfettamente di averlo provocato lei sa perfettamente che l'ha voluto lei per una volta nella sua vita ha voluto prendere una decisione per sé perché sta ragazza della sua vita per colpa di sua fidanzata ha deciso poco e niente ha deciso ha scelto di molare gli studi perché lui l'ha consigliato così ha scelto non ha mai scelto niente della sua vita e per una volta ha preso la decisione solo per sé stessa e quello di sentirsi bene di sentirsi amata e desiderata e va bene finché c'è la consensualità tutto va bene appunto Gio e Jenny cominciano appunto questo rapporto fatto comunque sì si potrebbero chiamare anche scopamici ma alla fine il sentimento c'è perché Gio è chiaramente innamorato di Jenny glielo dimostra in tutti i modi glielo dice anche mentre Jenny appunto è ancora ancorata la vecchia storia con David e non sa bene che cosa prova appunto per quello che lei ha sempre considerato il suo quinto fratello quindi diciamo che è un po' anche un classico del romance poi ma riforza questo stile veramente molto scorrevole molto bello che anche se fa accadere le cose in fretta te le fa gustare e ti arrivano comunque sempre al cuore è una frettolosità calcolata e questo ci sta perché comunque questo genere di romanzi non è che puoi perdere troppo tempo in girare intorno alle cose perché se no come ho detto ci si rompe le belotas quindi è una frettolosità calcolata che ci sta benissimo è perfetta per questo genere di romanzi proprio si vede che è intenzionale ho apprezzato moltissimo l'evoluzione anche di tanti personaggi come Linda la madre di Mac che in pazzo d'amore avrei voluto appendere per gli alluce lasciarla lì perché davvero aveva un comportamento con questa ragazza che è Maddie comunque Mac e Maddie fanno delle apparizioni comunque sono presenti perché Jenny è la sorella di Mac ed è la migliore amica di Maddie quindi è giusto che siano presenti in questa sua avventura chiamiamola così appunto il tutto si svolge nei preparativi del loro matrimonio perché non lo sapesse appunto perché non avesse letto pazzo d'amore Mac e Maddie si sono conosciuti quando lui l'ha investita e poi una serie di casini e tutto comunque c'è la recensione nelle schede nelle schermate finali dopo a fine video si sono innamorate perdutamente e stanno per sposarsi e Linda appunto la madre di Mac non aveva un atteggiamento molto molto amichevole nei confronti di Maddie perché la consideravano poco di buona a causa di alcune voci messe in giro da due da due stronzi tra cui uno è il fratello di Mac che però ha contribuito poi a sistemare le cose qui abbiamo appunto una madre di Mac Linda che ha accettato Maddie ha accettato Thomas che è il bambino di Maddie e vederla con questo bambino considerarlo proprio come se fosse suo nipote sangue del suo sangue è stato qualcosa di meraviglioso che appunto fa la sua comparsa anche la madre di Maddie e qui diciamo che aveva voluto lei all'inizio a pendere per gli alloci perché non solo hai fatto la cagata ma porti anche porti anche rancore per chi ti ha giustamente denunciato hai commesso un reato loro ti hanno denunciata giustamente te la sei cavata anche bene e quindi non devi rompere le belotas ecco io avrei voluto rispondere così alla madre alla madre di Maddie quindi fanno anche una comparsa e poi qui c'è anche un accenno del prossimo libro che va come protagonisti Sidney e Luke Luke è uno degli amici appunto di Mac che era già apparso anche lui in pazzo d'amore e si era già accennato qualcosa anche nel primo libro sulla sua storia con questa Sidney ma appunto qui abbiamo un piccolo accenno che diciamo preannuncia quello che sarà penso il prossimo il prossimo libro della serie Joe e Jenny appunto vivranno situazioni insomma complicate ci saranno casini come nel classico del romance ma io gli do un bel quattro stelle per la loro storia perché ha saputo davvero emozionarmi intrattenermi anche divertirmi lo stile della Marie Force è meraviglioso e poi le amministrazioni di Gunset Island sono fenomenali davvero ho apprezzato l'evoluzione dei personaggi del libro precedente ho apprezzato l'evoluzione nel libro di Joe e Jenny del loro rapporto vedere il loro processo di passare da relazione confusa poi a capire che non possono fare almeno l'una dell'altra veramente Joe è l'emblema del vero amore dell'uomo innamorato che farebbe qualunque cosa per la donna che ama a differenza appunto di David che vabbè poi alla fine si arriva anche patizzare per lui ma non vi dico perché quindi ragazzi se cercate appunto un romance carino leggero anche divertente ma bello intenso che vi intrattenga che mi emozioni insomma se avete il romance puro semplice e romantico pazzo l'amore ma ricominciare a Gunset Island vi consiglio anche il primo della serie comunque ricominciare a Gunset Island fa assolutamente per voi io lo so mi devo ancora attrezzare con questo coso bene questa recessione si conclude qui io spero che vi sia piaciuta mi rivolgo sia ai miei iscritti di youtube a quelli del blog e anche ai lettori di Pink Magazine Italia spero ovviamente che vi sia piaciuta vi ricordo che nell'info box troverete sia il link del blog dove trovate tutte le info del libro prezzo trama numero di pagine case editrici tutto quello che può servirvi per farvi un'idea ma vi lascio anche il link di Pink Magazine Italia dove potrete non soltanto vedere questa recensione ma potrete anche vedere tanti altri articoli perché comunque Pink Magazine come ho detto è un magazine online gratuito potete leggerlo online ma è anche un blog dove molte delle nostre fantastiche blogger autrici giornaliste e chi dir si voglia che più ne ha più ne metta pubblica articoli interessanti su un po di tutto la moda il cinema i libri anche io ci sono appunto tra quelli che recessiscono i libri attualità e tutto il resto quindi chi più ne ha più ne metta quindi andateci a dare un'occhiata perché veramente non resterete delusi io ringrazio la quiz what edizioni per la copia digitale del libro vi ricordo che nell'info box troverete anche tutti i miei social facebook twitter e instagram avete a trovarmi seguitemi mettetemi la che mi fate tanto tanto contenta iscrivetevi al canale blog se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e se questo video vi è piaciuto mettetemi un bel like e condividetelo vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video alla prossima recensione ciao a tutti